Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Partiamo con l'immagine da satellite che ci mostra l'Italia, le prese con l'alta pressione che infatti sta determinando condizioni di cielo sereno soprattutto al centro nord e gli ultimi annuvolamenti che riguardano il sud, in modo particolare le isole maggiori. Infatti nelle prossime ore ci sarà ancora l'influenza dell'instabilità dei giorni scorsi sull'estremo sud con qualche piovasco possibile sulla Sicilia, ma la tendenza vedrà un miglioramento anche qui con l'attenuazione dei venti di grecale che spiravano in questi giorni. Infatti l'alta pressione presente sull'Europa centro-occidentale tenderà sempre più a invadere il nostro paese favorendo una fase di stabilità e bel tempo in vista dei prossimi giorni, quindi anche per il weekend e l'inizio della prossima settimana. Con temperature massime che tenderanno a salire e soprattutto nei valori massimi, con clima anche abbastanza gradevole, mentre di notte al primo mattino continuerà a fare freddo con gelate anche piuttosto estese sull'arco alpino, sulla dorsale appenninica e fin verso la pianura al centro nord. La ventilazione, come dicevo, tenderà ad attenuarsi, favorendo quindi una situazione più stabile e anticiclonica, ma per maggiori dettagli consultate l'app gratuita di Trapi Meteo.